Chi è il primo realizzatore di sempre dell'Unione in campionato? Le risposte sono Gatto Pagliana, il regatello Mike Camponi con Bob McAdoo. In finale, in finale, qui detiene il record di tutti in campionato. Pagliana, il regatello Mike Camponi con Bob McAdoo, il regatello Mike Camponi con Bob McAdoo con Bob McAdoo con Bob McAdoo. Pagliana, il regatello Mike Camponi con Bob McAdoo.